si ragazzi bentornati sul mio canale oggi farò un nuovo video di pittura dopo le numerosissime richieste che mi avete fatto a seguito del mio primo video oggi ho pensato di spiegarvi come dipingere il colore del metallo per poter fare armi armature e quant'altro all'inizio soprattutto quando siete alle prime armi può risultare piuttosto ostico ma con qualche piccolo trucchetto vedrete che verrà una bomba e allora seguitemi al mio tavolo di pittura ci siamo ragazzi ho preparato qualche modello con delle armi quindi questo è il primo modello è un arcanaut di warhammer quindi un nano quasi tutto fatto di metallo con una spada che secondo me potrebbe essere un buon esempio soprattutto un elemento molto comune potreste trovarvi a dipingere parliamo un attimo dei colori che voglio usare allora la base di qualunque metallo si chiama led belcher questo colore è fondamentale perché lo userete diecimila volte quindi segnatevelo led belcher poi ci sono varie opzioni per andare a dargli un'ombra le due opzioni principali diciamo sono la prima la più importante null oil quindi come shade usare un nero semplicissimo la seconda invece agrax earth shade che questo è però è marrone questo qui ci servirebbe se noi vogliamo dare all'arma un che di sporco e di quasi arrugginito il marrone diciamo che è un colore di base della ruggine perché la ruggine è arancione quindi è un marrone più più chiaro più sviluppato ma diciamo che ci atteniamo subito al metodo tradizionale che è led belcher e null noil poi vedremo come fargli degli highlights quindi delle lumeggiature e poi vediamo di fare una prova anche invece con la lavatura di marrone quindi per fare un'arma sporca e arrugginita prima cosa che bisogna fare semplicissimo bisogna stendere il led belcher quindi lo scossiamo come al solito prendiamo la nostra palettina e ne mettiamo un pochettino sopra la nostra palette se vogliamo fare un lavoro proprio fatto bene 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 gli possiamo dare anche due mani il colore di base che ho dato alle mie miniature è il nero quindi lo spray nero possiamo aggiungere un tocchettino d'acqua ma non tanto alla nostra mistura e poi iniziamo a dipingere a led belcher semplicissimo andiamo a fare tutta la spada dipingiamo queste sono le prime fasi diciamo della della pittura quindi possiamo preoccuparci il giusto di andare sopra agli altri elementi io dipingo la spada vi faccio anche il guanto perché il loro guanto è metallico vi facciamo anche il taglio della spada anche di dietro ricordatevi sempre che le miniature sono fatte in tre dimensioni quindi dovete sempre rigirarvele tra le mani ok oggi mi concentrerò solo ed esclusivamente sui metalli quindi non dipingerò tutta la miniatura ma farò solo questa parte qua ok ora vado a dipingere non vi voglio annoiare faccio lo stesso identico procedimento per queste altre armi ho una picca e ho anche un'altra spada di un altro arcanaut quindi le dipingo tutte e tre quando il colore è asciutto ripartiamo per vedere la lavatura ok ho dato due mani di colore ai nostri ai nostri modelli dovete stare attentissimi che mentre lo stendete essendo un colore abbastanza denso o lo diluite un attimo oppure se non l'avete diluito troppo dovete stare attenti a stenderlo vedete che ci potrebbero formare dei cumuli di colore quindi le armi che hanno queste che sono diciamo delle parti lisce dovete stare attenti a stenderlo benissimo vediamo se io l'ho fatto sì qua è steso bene vediamo anche le spadine se per caso non l'ho steso benissimo vediamo che cosa significa stendere bene il colore no qua è liscio l'ho steso bene anche qua questa è la seconda mano vi ricordo qui l'ho steso bene qui non l'ho steso benissimo vedete qua in cima qui secondo me c'è un piccolo un piccolo grumo che si vede comunque lo teniamo lo teniamo così se ci ripassate col pennello pian piano stendete il colore questo non succede vedete che non è liscissima di dietro di questa spada qua prima di passare allo step degli inchiostri dovete essere sicuri al 100% che il modello sia asciutto perché se no ho fatto un disastro io lo tocco il colore non mi rimane sul dito però sento che è ancora un po' umido quindi aspetto ancora un attimino ok il colore mi sembra abbastanza asciutto quindi prendiamo i nostri inchiostri partiamo con null oil farò le due spade diverse quindi una sporca e una pulita e invece la picca la farò sempre con null oil uso null oil adesso uso sempre il pennello per dare la base che più o meno va bene lo stesso non facciamo non facciamo sottigliezze troppo piccole su che tipo di pennello devo usare ma è un pennello ci serve per stendere il colore quindi questo qui lo stendo abbastanza bene vedete lo date decidete voi la quantità fatta in modo che non ce ne sia troppo in certi punti quindi ad esempio qui ce n'è un po' troppo vedete che sia anche un po' uniforme quindi se ce n'è troppo asciugate il pennello sotto e poi lo andate a raccogliere ok così mi piace già di più facciamo la parte di dietro allora parte di dietro basta che gli passiamo null oil lo passiamo bene sul guanto anche il taglio della spada facciamo ok così direi che l'inchiostro l'abbiamo passato facciamo ora la picca quindi prendiamo dell'altro null oil lo stendiamo su tutta la picca così andiamo a creare tutte le ombre che ci servono per far sì che il modello venga fatto come dio comanda prendiamo altro null oil facciamo la parte dietro della picca poi mettetecelo poi se vi sembra troppo lo andate a stendere meglio direi che mi piace abbastanza fate anche tutta la parte in fondo e anche tutta la parte interna ok dietro per benino sulle mani qui ce ne ho messo un po' troppo lo cavo via anche qua dietro vedete che mi stavo dimenticando ok qui ne voglio un filino ne voglio un filino più steso ecco così mi piace di più perfetto non toccate di più li mettete ad asciugare quando passate da un inchiostro all'altro ricordatevi sempre di sciacquare il pennello adesso facciamo l'ultimo gli vogliamo dare il rusty look rusty look vuol dire un che di arrugginito quindi prendiamo il nostro agrax earth shade che è la tinta marrone lo shade marrone prendiamo il nostro modellino e niente poi gli passiamo alla spada con questo agrax earth shade ora io gli sto passando anche la mano il guanto non è correttissimo perché teoricamente la spada deve essere arrugginita a meno che lui non abbia anche il guanto arrugginito però lo scopo di questo video non è fare una miniatura intera perfetta ma è farvi vedere come potete andare a fare il metallo quali diversi effetti voi potete ottenere dai vari inchiostri quindi così inizio ad essere abbastanza soddisfatto sulla lama è steso bene ce n'è un po' troppo qui un po' troppo colore qua quindi lo tolgo dietro come siamo messi dietro non è steso benissimo bisogna che no no un po' ce n'è stendo un attimo vedete qui che quando viene steso il led belcher qui in alto non si è steso perfettamente tolgo un po' di questa alla base e ora aspettate che ci asciughi per gli inchiostri come al solito ci vorrà un po' di tempo quindi dovete avere pazienza perché sennò rischiate di rovinare tutto il lavoro che avete fatto fino adesso io li lascio ad asciugare diciamo mezz'ora sicuro però potrebbe essere di più potrebbe essere di meno in base a quanto inchiostro si è depositato quanti quanti recessi profondi ci sono perché più il recesso è profondo più l'inchiostro si deposita più si deposita più fa fatica a asciugarci questo che è importante anche stenderlo bene vedete io qua ci guardo sempre ok aspettate quando vi sembra asciutto quindi quando il colore è diventato opaco e non vedete più inchiostro liquido vedete come ne sono appoggiato un pochino sulla mano possiamo procedere con lo step 2 ci siamo ragazzi abbiamo i nostri tre modelli asciutti andiamo a vedere un po' all'effetto finale abbiamo questa lama di qua poi abbiamo un'altra lama qua in cima che è quella qui abbiamo dato il marrone vedete che nei recessi ha una piccolissima sfumatura di marrone non abbiamo dato tanto inchiostro quindi non si vede tantissimo però un po' d'occhio lo fa e questo qui invece l'abbiamo fatto sempre con il null noil parliamo ora dei colori che possiamo usare per fare l'highlights i colori secondo me sono tre iron breaker, lunefang steel e storm of silver sono veramente simili io non so neanche se la mia videocamera riesce a catturare la differenza di questi tre colori sicuramente questi due sono quasi uguali mentre l'iron breaker è un filino più scuro ora facciamo questo ragionamento meno stacco c'è tra le tonalità di colore meno problemi avrete a fare gli highlights quindi io partirei con l'iron breaker e poi vediamo questi due colori di qua runefang steel e storm of silver sono più diciamo da usare nel caso in cui noi vogliamo fare i bordi quindi i colori molto molto chiari si usano per fare solo il bordicino non una vera e propria sfumatura comunque ora lo proviamo così vediamo ecco guardate cosa succede con i colori metallici questo è un buon consiglio che vi posso dare non so se riuscite a vederlo ma questo colore ha del liquido sopra è molto molto liquido perché i colori metallici lasciandoli fermi si separano quindi si separa la parte densa e la parte liquida che contiene tutte le particelle metalliche quindi dovete scossarlo con vigore o addirittura se non riesce a mischiarsi con uno stuzzicadente andate a mescolarvelo ok ora l'ho scossato vediamo se va meglio assolutamente si vedete che adesso è mischiato non c'è più quel liquidino sopra allora ci serve un pennello abbastanza sottile per fare questa operazione un consiglio che vi posso dare è di diluire il colore perché in questa fase quindi negli highlights noi abbiamo bisogno di controllo controllo vuol dire che diluendo il colore noi sappiamo esattamente dove va a finire quindi ho toccato un pochino d'acqua col pennello voglio diluire un pochino ma non troppo ok togliamo il colore in eccesso dal pennello gli facciamo anche un po' di punta perfetto ora prendiamo il nostro modello e vediamo come vogliamo andarla a dipingere ci sono vari modi possiamo tenere la punta del pennello a 45 gradi sulla lama quindi possiamo andare a fare una cosa di questo genere e fare solo la parte e fare solo la parte esterna vedete che sta venendo ecco a 45 gradi se andate pian pianino non dovreste neanche sbagliarvi così avete una lama affilata vedete che è più brillante questo vi ricordo che è iron breaker il presupposto per poter fare questa operazione è che il colore sia liquido se non è liquido non combinate nulla ora potrei continuare a fare di qua questa stessa operazione a 45 gradi quindi in sostanza gli faccio tutto il bordo mi sto dipingendo anche il dito ma non ha alcuna importanza perfetto vedete che adesso è ripassato ora posso andare a fare questi dettagli qua piccolini sopra alla base della spada quindi li recupero un attimo cercando di non andare dove c'è l'inchiostro quindi cercando di lasciare le parti scure gli do un pochino di highlight posso fare un po' il guanto vedete non lo voglio colorare tutto ma essendo il colore liquido io posso farne anche solo una parte ok mi piace poi posso andare a prendere questi dettagli qua giù passarli perfetto ok così non è affatto male facciamo la parte dietro per la parte dietro possiamo fare la stessa identica cosa quindi pennella a 45 gradi facciamo tutto il bordo facciamo il bordo di qua rigiratevi la miniatura come pensate che sia comodo per voi ecco perfetto ora così a me la miniatura piace mi ha ripreso anche un po' il guanto possiamo fare uno step in più ma questo è molto pericoloso soprattutto se siete alle prime armi questo step in più vuol dire che io vado a fare la luce sulla lama su questa parte di lama qua potrei sbagliarmi eh perché qui bisogna essere molto precisi il colore deve essere diluito e quindi non è detto che mi venga il primo colpo se non mi viene ci potete ripassare comunque per me la lama sarebbe già finita cioè quest'arma va già benissimo così se volete dargli un colpo in più potete provare a cimentarvi a fare sta roba qua vediamo ok sono piuttosto soddisfatto di quello che mi è venuto fuori e quindi vado a farlo anche dall'altro lato sperando di riuscire a fare quello che mi sono promesso diluite un pochino il colore mi raccomando se no questo step potete anche evitare di provarci se non avete il colore bello liscio che che vi si stacca dal pennello e lascia linee ben definite ok non è venuta perfetta mi piace di più quella dietro però non è neanche così male quindi se guardiamo la miniatura da lontano va bene tutto qua questa miniatura per quanto mi riguarda è finita cioè quest'arma quindi mi piace sono soddisfatto del risultato andiamo ora a vedere che cosa succede se invece abbiamo dato l'inchiostro scuro utilizzo sempre dell'iron breaker lo diluisco come al solito quindi ci metto un pochino di acqua e poi lo vado a diluire ora proviamo un approccio diverso invece per fare questa arma quindi lasciamola tutta scura ed essendo rovinata facciamo dei come dei tagli di iron breaker per fingere che quest'arma sia sporca quindi non voglio andare a illuminarla tutta ma facciamo dei tagli di questo tipo questa potrebbe essere un'altra soluzione buona anche magari al centro una piccola x o stellina che sia sembra come se il metallo fosse venuto come se la ruggine fosse venuta via dall'arma vedete questo è un altro approccio che possiamo utilizzare ed è molto buono a patto chiaramente di lasciare l'arma sotto scura e poi farci questi dettagli qua nella parte di dietro invece voglio farvi vedere come fare un po' di ruggine ora qui ho un colore si chiama rise to dust che è un arancione la ruggine è arancione sembra molto forte questo qui infatti dobbiamo andarcelo a dare in maniera un po' moderata questo qui è un colore dry dry vuol dire che potete fare a meno di evitarlo di scossarlo perché il colore è già secco di suo vedete che è molto solido quindi ci puntate un po' il pennello dentro quando vi rimane davanti al pennello così dovete andarlo ad asciugare quindi in sostanza è molto granuloso comunque lo asciugate fino a che tipo come se doveste fare del dry brush lo asciugate poi dopo ci date dei colpettini per far sì che l'arma sembri arrugginita ok sono abbastanza soddisfatto qui ne voglio molte di ruggine nella parte centrale qui invece un po' meno adesso aspettate un attimo che ci asciughi ma veramente poco tempo intanto pulite il pennello adesso ci voglio fare dei dettagli sopra la ruggine ma voglio passare a una tonalità più chiara dell'Iron Breaker quindi proverò lo Stormhost Silver posso provare oppure addirittura Rune Fang Steel proviamo Rune Fang Steel che è molto molto chiaro questo va scossato ok vedete che è ancora diviso è molto liquido quindi va scossato di più i colori metallici fanno questo giochino qua ok vediamo adesso se è un po' meglio ma insomma non è tanto meglio l'ho scossato ancora lo siamo vediamo adesso ok ci siamo prendete un pennello molto sottile prendete un po' di colore mettetevelo sulla vostra palettina e adesso me lo piazzo qua prendete un po' di acquetta diluito il colore non troppo così l'ho diluito troppo quindi vado a prendere dell'altro colore dalla boccetta e glielo aggiungo per addensarlo ok questa mi sembra la consistenza giusta twistate il pennello per fargli la punta e poi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto di qua quindi ragionare per tagli vedete però sulla sul risa dust quindi sulla ruggine facciamo dei piccoli tagli questo effetto è molto bello facciamo anche un tagliettino al centro come se fosse stata un pochino di qua ok bene che ve ne pare con la ruggine secondo me è una figata quindi è venuto molto bene qui abbiamo il colore un po' denso vedete che non si è amalgamato perfettamente comunque direi che l'effetto è piuttosto soddisfacente questo è il lato di dietro che abbiamo fatto quindi con i colori regolari qui ci abbiamo aggiunto anche un po' di risa dust che viene aiutato dal marrone che ci abbiamo dato sotto perché l'arancione è diciamo sulla scala di colore del marrone andiamo a vedere ora la picca proviamo a farla con il rune fangsteel che è quello chiarissimo quindi dobbiamo cercare di prendere solo i dettagli ma prendiamo un po' la pallina al centro vedete poi stando molto attenti con il pennello che ci sia poco colore che sia diluito andiamo a prendere la parte centrale col pennello piatto aspettate che ho fatto un casino ok ecco fatto benissimo poi dopo qui a 45 gradi la parte sopra dovrebbe essere più semplice la centrale invece è un po' rognosa ok poi continuiamo di qua se sbagliate il colore liquido col dito viene via subito ok ho fatto un po' di pacciughino perché mi si stava scaricando il pennello non l'ho ricaricato bisogna sempre stare attenti anche a quello andiamo avanti qui sopra qui ci facciamo un po' di highlight in cima ma anche all'interno qui possiamo andare dentro tranquillamente fuori possiamo cercare di prendere questi due bottoni qui un po' ai lati perfetto queste queste maglie qui le possiamo prendere sempre col verso contrario mentre qui nella parte centrale possiamo decidere ad esempio di mettere in luce solo il blocchetto centrale quindi gli altri due quello sopra e quello sotto di lasciarli di un colore più scuro poi possiamo fare un pochino di highlight alla pallina facciamo un punto di luce così e il gioco è fatto rivediamoli rivediamoli tutti e tre insieme abbiamo la spada arrugginita con risa dust la picca fatta con rune fang steel invece il primo modello è fatto con l'iron breaker vedete che c'è meno differenza tra le luci e le ombre di quanto non ci sia sulla picca sulla picca è molto marcato perché ho usato rune fang steel l'iron breaker invece crea una sfumatura un pochino più lieve che abbiamo rise dust nella parte davanti invece abbiamo provato a fare la stessa cosa che abbiamo fatto sulla miniatura numero uno però dando dei colpi quindi come se l'arma fosse sporca e usandola si fosse tolto dello sporco solo in certi punti e questo è come dipingere il metallo delle armi ci sono tantissimi modi ulteriori per dipingere potete dare delle sfumature verdi o blu alle ombre delle armi se per esempio i modelli sono elfi insomma c'è un'infinità di possibilità io come al solito vi ringrazio per aver visto il mio video e ci vediamo alla prossima e ci vediamo Grazie a tutti.